La mozione è stata condivisa con tutta la maggioranza, era importante protocollarla entro una certa ora e un certo tempo, un certo giorno, per poi permettere a questa mozione di essere discussa nel prossimo Consiglio Comunale, quello di domani. È urgente perché ci sono delle novità assolute di cui siamo stati informati attraverso la provincia in un incontro che c'è stato due giorni fa e quindi è importante agire e dare gli strumenti per fare questo studio di fattibilità sui tre siti, perché il privato è molto interessato, anzi direi interessatissimo, a gestire tutto il ciclo dei rifiuti fino a quello che noi parliamo quando parliamo di digestore anaerobico. Grave ed urgente quindi la considerazione alla base della mozione, la presentazione in provincia del dossier per il digestore a barchi. Un privato che scippa ad un'azienda pubblica la possibilità di gestire un comparto così delicato come i rifiuti, in particolare l'umido che rappresenta una notevole voce di costo per le amministrazioni, fa venire l'orticaria ad una certa parte politica, maggiormente di sinistra, la quale dormirebbe certamente sonni più tranquilli, se fosse il pubblico a mettere le mani in tasca ai cittadini quando si parla di tassa per i rifiuti, perché poi in soldoni è di questo che si parla, di costi e di ricavi che l'operazione comporta e di ricadute sulle economie familiari. Respinte al mittente quindi a distanza di poche ore da parte dei gruppi consigliari di maggioranza, tutte le accuse sbandierate dalle opposizioni. Nessun aumento delle tariffe della Tari, Anzi, se il Comune dovesse pagare 120 euro a tonnellata allo smaltimento della frazione organica, quello sì che farebbe aumentare le tariffe. Legittimità della mozione urgente quindi è metodo utilizzato corretto anche dalle opposizioni. E niente quindi decisioni nelle segrete stanze, ma bensì dialogo e confronto. Credo che si sia innestata una polemica, credo strumentale, nel senso che è previsto dal regolamento la possibilità di poter discutere mozioni urgenti. È stato chiesto più volte dalla maggioranza di discutere insieme all'opposizione la questione sul digestore. Per questioni di regolamento c'è stato detto che non era possibile anticipare in passato la mozione del centrodestra e alla luce dei nuovi elementi delle ultime ore abbiamo ritenuto utilizzare lo strumento previsto dal regolamento per poter anticipare e discutere di questa questione, credo che interessi tutta la città. Riteniamo che su questa questione del digestore il tema deve essere dibattuto in Consiglio Comunale. Sindaco e Giunta avrebbero potuto autonomamente procedere con un incarico ad Aset consentendo ad Aset di fare lo studio di fattibilità sui tre siti e invece noi abbiamo ritenuto che per questioni di trasparenza la questione fosse discussa, dibattuta in Consiglio Comunale di fronte a tutta la città senza doversi poi nascondere dietro ad altro.